Resta sotto sequestro il MOS di Niscemi, l'impianto di comunicazioni satellitare militare americano. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso dell'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della Difesa e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali. Resta in vigore l'ordinanza del GIP di Caltagirone, confermata poi dal Tribunale per il Riesame di Catania, che ha bloccato la prosecuzione dei lavori. La cosa importante è che la Cassazione interviene dopo la sentenza del CGA che in parte aveva sovvertito quello che era il primo aspetto sull'abusivismo del TAR. Quindi nonostante la sentenza del CGA, la Cassazione continua a confermare l'abusività del MOS.